Stamattina il Fatto Quotidiano ci informa che il Ministro dell'Agricoltura Lolo Brigida, il cognato della Meloni, il cognato del Presidente del Consiglio, ha fermato il Frecciarossa un treno sul quale lui viaggiava per scendere, perché il treno era in ritardo, in uno posto dove non c'era nessuna fermata del treno del Frecciarossa. Presidente Meloni, mi rivolgo a lei, per favore, fermi questo delirio di onnipotenza, perché questo è un paese democratico, un paese sano, in cui situazioni di questo genere credo che siano intollerabili. Spero che l'opposizione si faccia valere, perché questo è un fatto di una gravità assurda, bisogna fermare questo delirio di onnipotenza, i Ministri e il Presidente del Consiglio servono il Paese, non usano il Paese e Presidente, le ribadisco, fermi questo delirio di onnipotenza, perché guardi che la ruota gira e poi torna tutto e questo fa danno a lei e all'Italia e ai nostri figli. Quindi, per favore, io sono indignato di quello che è successo. Informiamo i cittadini e aiutateci a fare in modo che la Meloni capisca che una deriva di questo genere è insostenibile.